Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi lasciamo un attimino da parte i soliti video su video recensioni o video acquisti manga e parliamo di una serie televisiva che ultimamente, negli ultimi anni, ha dominato il palcoscenico mondiale. E ovviamente sto parlando di Game of Thrones, il trono di spade. Voglio premettere subito che non ci saranno spoiler in questo video, in quanto io come voi non conosciamo cosa succederà nell'ottava stagione e come si concluderà l'opera. L'unica cosa che conosciamo è che sarà composta da solo 6 episodi e la HBO ha smentito le voci degli ultimi giorni che sostenevano che le puntate sarebbero durate 2 ore l'una proprio per sopperire alla mancanza di una stagione di da 12-13 episodi. Volevano allungare gli episodi a 2 ore l'una ma non è stata smentita questa notizia dalla casa produttrice. In questo video ovviamente parlerò solo ed esclusivamente dei personaggi principali perché altrimenti dovrei fare circa 24 ore di video per parlare di ogni personaggio caratterizzato in Game of Thrones. Gli attori si sono lasciati scappare diciamo che sarà la stagione con più vittime, con più cruenta, con più morti. e visto quello che siamo stati abituati a vedere nelle scorse stagioni e considerato che saranno soltanto 6 episodi quest'ultima stagione io presumo che sarà una carneficina a ogni puntata. ci troveremo davanti a una vera e propria carneficina. Ma dei personaggi principali andiamo ad analizzare uno a uno quelli che secondo me, attenzione questo è un mio parere personale condivisibile o non, riusciranno a sopravvivere fino alla fine. Iniziamo ovviamente con la famiglia Lannister, iniziamo da Cersei. Cersei non penso che riuscirà a sopravvivere fino alla fine. Cersei morirà e ho in mente due possibili scenari di morte per quello che riguarda questo personaggio. Uno è che venga uccisa da Arya, perché si trova nella lista nera della ragazza e nel corso di tutta l'ultima stagione Arya proverà ad ucciderla più e più volte. Non so se ci riuscirà in meno e andiamo alla seconda opzione, perché secondo me la più plausibile in realtà è che Cersei decida alla fine di suicidarsi. Dal primo episodio della prima stagione all'ultimo episodio della settima abbiamo visto come Cersei sia forse il personaggio più orgoglioso di tutta la saga. Ed è questo che mi porta a pensare che possa suicidarsi, perché non vorrà dar modo alle famiglie avversarie, a un membro di una famiglia nemica, di riuscire a toglierle la vita, a toglierle ciò a cui lei è più legata. Poi passiamo ai suoi due fratelli, partiamo con Tyrion, Tyrion invece secondo me riuscirà a sopravvivere. Questa alleanza con Daenerys e Jon Snow lo aiuterà sicuramente a sopravvivere fino alla fine. Sono convinto anche che durante una delle tante battaglie che ci saranno in quest'ultima stagione si troverà faccia a faccia con suo fratello Jamie e suo fratello Jamie non riuscirà a dargli il colpo di grazia anche se ne avrà l'opportunità. Queste due cose unite permetteranno al Folletto di arrivare fino alla fine vivo. Cosa che secondo me non si può dire lo stesso per Jamie. Jamie secondo me morirà in battaglia e morirà non per proteggere un suo alleato o un suo familiare ma bensì per proteggere Brienne. Brienne innamorata persa di Jamie da molte puntate a questa parte, da molte stagioni a questa parte e lui sta iniziando secondo me a provare anche dei sentimenti verso questa donna e questi sentimenti che sfoceranno poi nel dare la propria vita per salvare quella di Brienne. Brienne che nonostante venga salvata da Jamie non riuscirà comunque ad arrivare viva fino alla fine lei però per mantenere le promesse fatte alla famiglia Stark quindi verrà uccisa sempre in battaglia per proteggere uno dei membri rimasti in vita della famiglia Stark secondo me la più probabile è per salvare Sansa che è la più debole di tutti quegli rimasti Sansa Sansa purtroppo perché io la odio profondamente come personaggio secondo me riuscirà a sopravvivere fino alla fine e vi dirò di più, secondo me sarà lei a sedersi sul trono di spade si sederà lei sul trono di spade perché? perché Daenerys morirà io credo che Daenerys morirà e morirà partorendo perché penso che sia scontata la cosa che lei e Jon Snow alla fine avranno un figlio e il figlio di due Targaryen puri avrà una forza tale da succhiare tutta l'energia vitale alla madre al momento della nascita e quindi provocherà la morte di sua madre al momento del parto Jon Snow Jon Snow è difficile immaginare che lo facciano morire in quest'ultima stagione dopo aver scoperto chi è abbiamo scoperto che lui è l'erede della famiglia Targaryen il trono di spade spetterebbe a lui ma allo stesso tempo la morte di Daenerys secondo me provocherà in lui uno scombussolamento psicologico e uno stato d'animo tale da non volersi sedere su quel trono e di conseguenza lascerà il trono di spade a sua sorella Sansa nell'attesa in cui suo figlio o sua figlia cresceranno ed diventeranno in grado di intendere di volere per sedersi su quel trono poi abbiamo Arya Arya Stark quello che spero io perché Arya invece al contrario di sua sorella Sansa è il mio personaggio preferito secondo me sopravviverà fino alla fine riuscirà a completare la sua lista nera ammazzando tutti quelli che c'erano su quella lista tranne forse Cersei per i motivi che ho spiegato in precedenza e alla fine verrà nominata primo cavaliere del re per completare gli Stark abbiamo scusate Bren Bren che nell'ultima stagione abbiamo visto acquisire i poteri del corvo a tre occhi Bren che svolgerà un ruolo fondamentale nel corso di tutta l'ultima stagione ed è quello che mi viene più difficile cercare di dare un giudizio se riuscirà a sopravvivere o meno alla grande guerra contro contro gli strani su di lui non so cosa cosa pensare non penso che sopravviva perché qualcuno degli Stark dovrà morire per forza e secondo me saranno o lui o Arya però per una scelta di cuore spero che morirà lui che nessuno si offenda per questo ma io adoro Arya e spero che sopravviva fino alla fine ultimi due personaggi che andremo ad analizzare saranno Samuel Tarly che secondo me sopravviverà diventerà il consigliere personale di Jon Snow durante la guerra contro gli strani Jon Snow chiederà più volte consigli a Sam e grazie anche ai suoi consigli porterà l'esercito degli umani ad ottenere la vittoria contro gli strani ultimo personaggio è Theon Greyjoy che voglio analizzare Theon Greyjoy non credo che arriverà fino alla fine però comunque svolgerà anche lui un ruolo fondamentale perché troverà il coraggio di andare a salvare sua sorella di combattere contro suo zio e di ammazzare suo zio per poi diventare prendere possesso di tutta la flotta della famiglia Greyjoy e andare in soccorso della famiglia Snow a combattere ad approdo del re contro i Lannister e contro tutti gli alleati dei Lannister io con questo ho concluso spero che il video vi sia piaciuto spero di non aver detto delle cose che reputate assolutamente insensate scrivetemi nei commenti cosa ne pensate quali sono i vostri personaggi preferiti chi volete che sopravviva e chi volete che invece muoia vi lascio in descrizione anche le mie pagine Instagram e Facebook andatele a vedere iscrivetevi al canale lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e buona serata